Cristo Santo Enzo E' successo un macello qui Tre vittime, un'intera famiglia L'omicida ha lasciato una lettera piena di frasi senza senso I tratti delle vittime nei loro ultimi stanti di vita Infarciti da aggettivi freddi E' una finta naturalezza che vorrebbe farci intendere che l'unica motivazione dei delitti E' la vita stessa Dalla prima all'ultima lettera il killer cambiava Scrivi di più, come se lui si stesse avvicinando sempre di più Tutto la verità Vi ho guariti da questa assurda malattia di vivere Vi ho guariti da questa assurda malattia di vivere Capisco perfettamente tutto quello che scrivi Perciò amico mio Scrivi Perciò amico mio Perciò amico mio Perciò amico mio